Buon appetito! Un concept davvero bellissimo del trailer della Session 3 e Caprio 2 di Fortet, quindi della prossima stagione. Questo concept vi ricordo che non è ufficiale, appunto è stato fatto da un utente di Fortet, però è davvero molto molto bello, infatti adesso ve lo farò vedere. Questo concept è stato fatto dallo stesso creatore che ha creato appunto quello del Pass Battaglia, che vi ho fatto vedere in un precedente video, che creò questo Pass Battaglia di 50 livelli, che era davvero molto realistico, con le skin liccate la prossima stagione. Anche col trailer ha fatto così, infatti è un trailer davvero molto bello, non dura tantissimo, adesso lo andremo a vedere insieme. E in questo trailer appunto ci mette tutte le skin che sono state liccate, che verranno messe la prossima stagione. Quindi, prima di iniziare vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi e attivare la campagna delle notifiche, per essere sempre aggiornati su questi tipi di video e le live di regalo skin o Pass Battaglia. Infine, condividi questo video a tutti i buoni tuoi amici, almeno anche loro sanno queste novità. Quindi, partiamo subito vedendo questo concept, infatti ve lo metto subito a schermo. Questo concept è appunto della stagione 3, il capito 2 di Fortet. Vi ricordo il link in descrizione del creatore di questo concept, se ancora non siete iscritti a lui, andatevi a iscrivere, perché è davvero molto bravo a creare questi concept. Quindi, incominciamo a vedere. Partiamo, infatti, posso subito vedere questo cimitero e la skin Enginer, cioè la skin, la versione femminile di Mida, che troviamo nella sua camera. Cosa fa questa skin? Appunto sta progettando un miaioscolo robotico. Un miaioscolo robotico dovrebbe far parte del prossimo Pass Battaglia. Infine troviamo questa nuova skin, dovrebbe essere una sirena, che va sotto una città subacqua, e poi possiamo vedere tutte le skin del Pass Battaglia. Infatti, blocchiamo le immagini, possiamo vedere il miaioscolo in versione robot, che in teoria, secondo i leaks che abbiamo, dovrebbe far parte del prossimo Pass Battaglia. Anche la skin in Cavaliere Nero dovrebbe far parte del prossimo Pass Battaglia, così come Aquaman, la sirena e, appunto, Engine. Engine, appunto, vi faccio vedere stesso da qui, se andiamo alla sezione agenti, nella camera di Mida, possiamo benissimo vedere, anche dal trailer, che sulla sua scrivania, sulla scrivania di Mida, possiamo vedere, appunto, che c'è questa skin. Questa skin dovrebbe essere la versione femminile di Mida, che troveremo nella prossima stagione. Quindi, che dire, questo trailer è davvero molto bello e molto realistico, perché mette insieme tutti i leaks che abbiamo sulla stagione 3, cioè tutte le skin che dovremmo avere. Poi mette anche il tema acquatico, appunto, con una città sottomarina, quindi davvero molto molto bello. Fatemi sapere se questo concept vi piace, vi ricordo che non è il trailer originale, il trailer originale lavoreremo il 4 giugno con la nuova stagione. Se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi, attivare la campanella di notifiche per essere sempre aggiornati su questi tipi di video e le la vedo regalo skin o pass battaglia. Infine, condividi questo video a tutti i tuoi amici, almeno anche loro sanno, questo nuovo concept del pass battaglia è davvero molto bello. Noi ci vediamo in un prossimo video o una prossima live. Grazie.